Per Politicamente Scorretto siamo con Raffaele Posulu che adesso ci illustrerà il murale della memoria e in che modo questo murale vuole commemorare la memoria nel Politicamente Scorretto. Ci spieghi questo murale? Certo Luca. Questo murale, come hai detto correttamente tu, nasce all'interno di questa sede perché ospita un evento molto importante di Politicamente Scorretto ma non si ferma né a Politicamente Scorretto né all'evento tristemente noto della Casa della Soledità. È un murale che abbraccia la memoria a 360 gradi. È un murale che raffigura due mani che si stringono, due mani che creano un legame. Quell'arzigogolo dietro, che è un arzigogolo, è anche un nastro, è anche una parola. All'interno c'è la parola legame, che è anche il titolo dell'opera, a testimoniare quanto sia forte il legame della memoria, quindi il legame che ha su di noi la memoria, ma allo stesso tempo quanto sia difficile riuscire a trovare questo legame, a recuperarlo e a mantenerlo saldo. Ed è così che con la cultura e l'arte si riescono a ricordare questi eventi. Ci spieghi un po' che cosa ti aspetti e che cosa vorresti dal Politicamente Scorretto quest'anno? Quindi quello che mi aspetto, le mie aspettive sicuramente verranno realizzate da Politicamente Scorretto. Questo lo so per certo, mi è bastato seguire questa sera l'evento in Casa della Soledità per capire le persone che girano intorno a questa bellissima manifestazione, il loro carattere, il loro carisma, per essere certo che la legalità vincerà, almeno qua dentro, quello che ci auguriamo è anche qua fuori. E la mia sicurezza viene anche da un messaggio molto bello che ha scritto Antonio sul Morales, che è No Mafia Sempre.